Il teleobiettivo è puntato sulla catena montosa in fondo, la si vede bene, è imbiancata, è la corsica, le cime imbiancate e poi giù, 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 sempre in modo degradante, si arriva poi appunto alla parte anteriore della cima semprecorsa, è uno spettacolo della natura, comunque si nota bene le montagne nella parte più alta piena di neve. Voglio fare una zoomata, solo un attimo. Allora, sull'isola Lerbo. La ripresa anche questa, la si vede bene, è molto nitida. Con questo faccio stop.